Ciao, salve a tutti, bentornati al mio canale, sono Dragengest e oggi 25 dicembre 2022, prima di vedere cosa ci porta il negozio oggetti, ragazzi, buon Natale a tutti! Spero che ieri sera avete aperto tutti i regali di Natale che siano stati belli, enormi, grandi e di grande impatto per voi! Quindi andiamo subito a vedere cosa c'è di disponibile nel negozio oggetti di oggi! In primo piano abbiamo Giannis Atecompo, bello, bello, bello ragazzi, poi scendiamo, come vi avevo già scritto, stava arrivando Giannis, quindi poi a tutta pittura, tutta l'NBA, ragazzi, eccola qui, bella, bella, bella! Poi scendiamo ancora a tutta pittura, quindi possiamo prendere tutto in modo singolo e quindi poi tutti i bundle di My Hero Academia, poi vediamo se c'è qualche altra novità, sì, in evidenza hanno messo il bundle Clan del Falcone, da me già tutto in possesso! Abbiamo Goof, Pit Stop, Pole Position, MacAque e quindi concentrazione, poi la bellissima Danza Neve di ieri, ragazzi, quindi Marius, Barracuda, Elemote, Never Gone, Passi da Sogno e Scottante! E quindi tutti i bundle natalizi che già avevamo visto precedentemente, sino ad arrivare giù ai bundle offerte speciali della Epic dove non c'è alcuna novità! Tutti quelli che non vedete, ragazzi, perché già li ho presi tutti quanti! Comunque arrivati qui, mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, condividete il video con i miei amici e lasciate un mega mi piace! Torniamo subito all'inizio, andiamo a vedere il bundle di Giannis Atecumpo! Andiamo ad aprire, quindi andiamo a prendere subito la skin, andiamo a vedere subito i suoi stili in anteprima! Giannis Atecumpo passa di stile in stile quando usa oggetti curativi consumabili, il dorso decorativo, ali della vittoria, si trasforma nel deltaplano vittoria in volo quando vengono equipaggiati! Entrambi bellissimo, ragazzi, stupendo! Vestiamo i suoi stili, sono tantissimi stili! Rete Redentrice e poi Ankara Sgargiante, Ankara Verde e quindi Giannis non reattiva, Rete Redentrice non reattiva, Ankara Sgargiante non è reattiva questa versione e Ankara Verde non reattiva anche questa, ragazzi! Cappello sì e cappello no, ovviamente è al contrario, quindi qui ce l'ha e qui non ce l'ha, ragazzi! Torniamo indietro, ragazzi, andiamo a vedere il suo dorso decorativo, questa serie di core, ragazzi, ali della vittoria, ma questa skin è veramente fenomenale, ragazzi! Bella, 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 veramente! Reattività sì e reattività no, bella, bella, bella! Vediamo il deltaplano vittoria in volo, stili in anteprima, reattività sì e reattività no! Poi abbiamo lo strumento di raccolta, accetta, linea di, accetta, linea di campo, bella, bella, bella anche questa qui! La copertura, pittura Ankara, bello questo stile afro, ragazzi, è stupendo, bellissimo! E questa maschera di Yoruba, ah, ho capito benissimo, quindi è un nigeriano della comunità degli Yoruba, della razza degli Yoruba, della comunità degli Yoruba, ragazzi! Vi ricordo che le maggiori comunità che ci sono in Nigeria, sì, perché io ci ho vissuto per vent'anni in Nigeria, sono gli Yoruba, gli Ibo e gli Ausa! Questi sono i più grandi che ci sono in Nigeria, quindi Giannis Atecumpo è nigeriano, ragazzi! Bellissimo questa cosa, è la mia seconda patria! 2.200 V-Bug, ragazzi, per questa skin che andrò sicuramente a prendere! Andiamo poi a vedere il bundle Giannis Oplita, bellissimo! Andiamo a vedere stili in anteprima, Giannis Oplita, poi Piumato e quindi Corinzio, stupendo questo fusione di stile tra afro e spartano, bella, bella, bella! Brocchiero fuori classe, il suo dorso decorativo e quindi Doru, diamante, lo strumento di raccolta e poi questa emote riscaldamento, bella, bella, bella! 1.900 V-Bug per tutto questo bando, abbiamo la possibilità di prendere poi Giannis da solo a 2.000, accetta, linea di campo 800, pittura Ankara a 300, Giannis Oplita a 1.500, Doru diamante ad 800 e riscaldamento a 300! Scendiamo ancora una volta a tutta pittura, eroe di metà campo, andiamo a vederne uno, stili in anteprima, qui possiamo scegliere che tipo di numero vogliamo sulla nostra maglia e possiamo andare a scegliere una qualsiasi squadra, ragazzi, americana, i Lakers, bellissimo! Anche questi qui, ragazzi, gli Oklahoma City Thunder e quindi poi ancora i Washington Wizard, comunque possiamo andare indietro, ragazzi, avete capito quello che possiamo fare? Scegli l'NBA, la squadra NBA che preferisce il numero da sfoggiare sulla maglietta, 1.500 V-Bug per questo stile, per questa skin, la parte maschile e la parte femminile scendiamo e qui abbiamo tutte quante le attrezzature, il mini canestro e il giocattolo tiro a gancio, 600 V-Bug per questa mini bundle di attrezzature di dorsi decorativi dribbling, l'emote 500 V-Bug, ragazzi, e ce la portiamo a casa, trofeo campionato NBA 400 V-Bug, ragazzi, e ce la portiamo a casa e qui ancora una volta possiamo scegliere tra la skin maschile e la skin femminile, tutto il bundle a 3.500 poi abbiamo tutti i bundle My Hero Academia ancora i presenti, Star Wars, Mr. Beast e in evidenza abbiamo il bundle Clan del Falcone andiamo a vederlo velocemente, abbiamo Kuno, la bellissima Kuno, poi Kenji, il deltaplano leggendario Falcone e quindi lo strumento di raccolta artigliaccio e poi colpo rapido lo strumento di raccolta e quindi dorso decorativo Katana e Kunai e un altro dorso decorativo doppio Kama bello, 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 ragazzi, quanto viene per tutti quanti voi? Vediamo un attimino 2.800 V-Bug, ragazzi, e ve lo portate a casa Kuno da sola a 1.500, artigliaccio, scusate, artigliaccio a 800, colpo rapido a 500, Falcone a 1.500, ragazzi, Kenji a 1.500 scendiamo e abbiamo Goof 1200, oppure detto in un pochettino, con un po' di inglesismo, Gaff Mitica Potenza, capitolo 2, stagione 2 e il suo dorso decorativo Borza Fluff, 1.200 V-Bug per questa stupenda, bellissima skin che ci sarà anche regalata fra poco in modo natalizio Gaff Peluche 400, V-Bug, ragazzi, ce lo portiamo a casa bello, 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 simpaticissimo prova, felicità o ira in base al tuo gameplay, questa è proprio simpatica la devo prendere oggi, Fluff, regale 800 V-Bug, bello, 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 anche questa poi abbiamo Pit Stop, costume, raro, capitolo 2, stagione 4, squadra corse, il set di cui fa parte stili in anteprima, predefinito, il verde, il viola ed il giallo 1200 V-Bug, torniamo indietro Pole Position, abbiamo poi il costume, raro, pole position, con più stili selezionabili il predefinito, il verde, il viola ed il giallo anche questo qui, stupendo e bellissimo, ragazzi miscela esplosiva e lo strumento di raccolta con più stili selezionabili il predefinito, il verde, viola e giallo 800 V-Bug ed è il nostro Macaq il costume con più stili selezionabili Macaq e Sheetland reale, bello, bello, bello anche questo qui, ragazzi è da prendere, secondo me, molto simpatico all'interno del game, il dorso decorativo lo stile zaino, buccia e Sheetland reale, anche questo qui è stupendo, ragazzi, secondo me 1200 V-Bug è da prendere appena possibile concentrazione da me, già in possesso 1200 V-Bug per questa skin della stagione 9 punto focale, il set di cui fa parte bellissimo il dorso decorativo ma anche la skin, ragazzi, non è male vi posso assicurare che in game è stupenda 1200 V-Bug ed è vostra fissazione, lo strumento di raccolta 800 V-Bug, ragazzi, bello, bello anche questo qui, 800 V-Bug ed è vostra punto focale, stagione 9 la bellissima, che ho preso subito danza neve, ragazzi bella, 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 ve l'assicuro con più stili selezionabili, come possiamo vedere in schermo in questo momento, anche il suo dorso decorativo nevischio nervoso, eccolo qui con più stili selezionabili andiamo a vederlo notte d'inverno è l'altro stile bello, bello, bello poi nevischio argento è lo strumento di raccolta anch'esso con più stili selezionabili nevischio argento la versione normale e notte d'inverno è la seconda versione bella, 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 ragazzi regalo per gli amici non mi sembra che sia da 2000 e da 1600 bellissimo, non ricordavo ieri di aver speso 1600 danza neve, eccola qui la 1200 la possiamo prendere da sola nevischio argento 800 lo possiamo prendere da solo, scendiamo e tra i giornalieri abbiamo Marius da 800 V-Bag ragazzi che conosciamo bene stili in anteprima Marius e Marius Ardesia poi abbiamo Barracuda 1200 V-Bag con più stili selezionabili il predefinito è maschera indossata bella, bella anche questa, ragazzi 1200, capitolo 2, stagione 3 per Cussore San Mastro il set di cui fa parte Never Gone Emote da 500 serie di icone andiamo indietro per il copyright passi da sogno 500 V-Bag anche questo qui è bellissimo e poi abbiamo esercizi all'accetta per squadra calzamaglia stagione 5 500 V-Bag del nostra e poi scottante l'emote da 200 V-Bag ragazzi bella, bella, bella non via 10D ragazzi e stasera non so quando ma stasera contest minimo 10 massimo fate voi il nome dell'emote e poi la vostra ID torniamo indietro scendiamo Reina abbiamo già visto tutti i bundle invernali ragazzi che avevamo già visti tutti fino ad arrivare giù come al solito al bundle offerte speciali della Epic qui io ritorno in lobby vi do il mio salutone ragazzi ci vediamo molto presto e vediamo stasera chi sarà il vincitore speriamo di esserci stasera ragazzi non vi assicuro niente altrimenti domani il vincitore prenderà un'altra emote video è tutto mi raccomando per questo video è tutto mi raccomando iscriviti al canale attivate la campanella condividete il video con gli amici e lascia un mega mi piace al prossimo video ciao 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 ciao